Konnichiwa cari giappo amici e benvenuti a tutti voi qui nel canale, sono come sempre il vostro giappogamer e benvenuti oggi qui su Within the Blade per contare questa avventura platform veramente incredibile nel giappone feudale che vede il nostro ninja Hideaki corre in aiuto del suo villaggio per salvarlo dalle tenebre e allora siamo giunti esattamente alla revisione numero 19, chissà cosa accadrà quest'oggi ma come sempre mi consiglio è quello di iscrivervi al canale di attirare la campanella, lo andiamo a vedere quest'oggi in questo nuovo appuntamento di Within the Blade e continuiamo quindi dovrebbe essere la boss fight eccola, chi sei? e tu e la tua girlfriend, fidanzata will stay here, starete qua ok ma insomma hai il deal with him e quickly ma dai facciamolo velocemente tacci tua Tengu eh il kunai ti fa male eh eh ma ci voglio pure i shuriken tacci tua sia siiii yata yata fatta fuori il Tengu bene così bene così mamma mia che boss fight spettacolare vuole questa cavolo su un tetto di un castello giapponese E torniamo qua al nostro villaggio Mamma mia, spettacolare Spettacolare questo Within the Blade, mamma mia Bene così, bene così E allora Cari giapponici, eccoci qui Nella schiena dei titoli di questo Within the Blade Anche questo, episodio numero 19 Della serie, ovviamente termina qui Sperando che vi sia piaciuto di lasciarmi Più likes possibili, ovviamente Commentate, condividete i costi amici Lungo e largo, seguite i miei vari social Vi ripeto come sempre, essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram, basta Scrivere Giappogamer e mi trovate Aggevolmente in più, come sempre Il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale Di attivare la campanella Per non aprire su un video di uscita quotidiana E infine ricordate anche il mio blog Su poppress, l'indirizzo giappogamer.com.blog Dove, dante intanto Scrivo news E recensioni vari sui giochi Che riesco a trattarmi sul canale E allora, dal vostro Giappogamer Per il momento è tutto Matanè E ai prossimi episodi Mora, dal vostro Giappogamer